Grazie Presidente. Allora, torniamo a parlare di questo argomento che avevamo lasciato prima dell'estate, un argomento ovviamente molto importante. Devo rettificare una dichiarazione della consigliera Grancio, in quanto lei ha dichiarato che il problema è stato il massimo ribasso che c'è stato nell'appalto delle utenze non domessiche e questa è stata la ragione per cui non è stata accettata la proroga. In realtà le società che avevano vinto l'appalto erano diverse e molti servizi non ha accettato la proroga e questo la dice un po' lunga sull'accadimento degli eventi. Vorrei anche ricordare al consigliera Grancio che per quanto riguarda il reinserimento dei detenuti questa amministrazione ha fatto un lavoro enorme con l'assessore Frongia, è stato fatto un lavoro che è stato preso a modello da altre città italiane, diversi lavori sono stati fatti nella città con dei detenuti, è stato apprezzato un po' in tutta Italia per cui è molto alto l'attenzione che questa amministrazione ha posto a questa specifica categoria di persone. Sappiamo che ovviamente tutta la situazione ha generato un tavolo di lavoro importante che sta affrontando nel dettaglio le questioni relative a molti servizi, alle utenze non domestiche per cui a questo punto noi riteniamo che il percorso che si sta percorrendo è corretto, pertanto la maggioranza si asterrà a questa mozione e si asterrà anche agli emendamenti proposti dalla consigliera Grancio. Grazie